Ed ecco l'una cena con tutta la famiglia, la nonna, il nonno, il fratellino e la zia Patti. Aspettando le Iene con Marlene, la mia bambina, lei, la vuela più bella d'Italia, il vuelo più bello d'Italia, ma c'è Stanti della Vega ancora più bella. Guardate, non mi sopporta, però fa niente, io lo amo lo stesso. Buon Natale! Cenano tutti assieme e poi tutti a vedere Mamma Belen in tv. Sì, ci sono le Iene e loro la guardano assieme. Sì, ci sono le Iene e loro la guardano assieme. Grazie. Grazie.